Una corsa speciale che ha come protagonisti detenuti a Barcellona Pozzo di Gotto l'iniziativa legata alla riabilitazione sociale di chi è in carcere. Fabio Butera. Auguri, auguri, 18... Oggi facciamo l'anniversario di matrimonio. Devono passare ancora un po' di anni prima che Tindoro possa tornare a casa da Rachele e i suoi figli. Oggi però possono stare un po' insieme nel cortile del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, liberi di abbracciarsi senza le sbarre della sala colloqui e liberi di fare insieme un po' di sport. Fai una corsa con papà? Sì. Sì. L'idea di questa giornata è del progetto Vivi Città, giocare per diritto, pensato da WISP Sicilia con il supporto dell'impresa sociale con i bambini. Riprodurre quei rapporti umani che sono stati spezzati per motivi contingenti e che comunque hanno un'influenza negativa sulla famiglia e sui figli in particolar modo. Oggi qui è un giorno speciale perché si riuniscono famiglie che la vita e gli errori commessi hanno diviso. Le aiutava con i compili, faceva tutte cose. Fai l'amore? Sì. Una meravigliata. Sì, il mio cuore sei. Anche tu. Manca una recita, manca una visita, manca un compleanno, manca, si sente anche sedersi a tavola, manca sempre quel posto che speriamo prima possibile riusciamo a riempirlo. Uno spazio che si apre per la riflessione, per la relazione. Puntiamo molto su questa leva motivazionale dei figli per il cambiamento, per un cambiamento autentico. Oggi è anche l'occasione per aggiornare i papà dei risultati scolastici dei figli. Sono felice perché questa notizia di mio figlio l'ho ricevuta qua. Perché è andato bene agli esami. Non ho saputo andare in diretta, perciò è una cosa molto bella. Grazie. Grazie.